oi pulito, che cazzo ridi scusi, ma secondo te ci sta bene la risolvenza, meglio così o così, secondo te è meglio così o meglio così? la prima ho capito, ma devi passare il tempo, cioè dall'idea di che passa il tempo, ho capito, ho capito, mi chiedi qual è meglio, la prima o la seconda e ti dico la prima ma non ho capito, ma scusa non ci puoi fare così ma se te me lo chiedi e io ti dico secondo me è meglio la prima e poi mi dici per te è così, se per te è così è il tuo film, lo fai come vuoi farlo te, no? ma scusa, ma è mio, il film è mio e fa come voglio io, no capito, e poi c'è cioè, ma scusa, ma il film è mio, fa come posso fare io il film è tuo, fai come ti pare, non c'è l'uomo, sto leggendo, ok? te l'avevo detto io ti metto la prima ma ne fanno pestare male ti metto la prima ficendo male